La campagna torna in zona arancione. Da lunedì riaprono parrucchieri, negozi e centri estetici. Meno restrizioni per gli spostamenti dopo settimane. Per l'Istituto Superiore di Sanità, anzi, la campagna è classificata a rischio basso. Vincenzo De Luca però invita alla calma. Nessuno si dia alla pazza gioia il monito del governatore nel consueto punto settimanale sull'emergenza covid. De Luca ha raccomandato cautela e invitato il governo a sostenere le categorie economiche in difficoltà. Entriamo in una nuova fase. che deve richiedere rigore perché siamo ancora nel pieno dell'epidemia ma anche buonsenso. L'inquilino di Palazzo Santa Lucia ha ribadito la necessità di vaccinare le isole e le località turistiche per rilanciare l'economia ma mancare sono i vaccini e da De Luca è arrivato un durissimo affondo. Mi faccio vedere questo prospetto. Questo prospetto ci dice che la regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25 per cento della sua popolazione. Siamo l'ultima regione d'Italia per la fornitura di vaccini in relazione alla popolazione. Siamo al limite della delinquenza politica. Intanto resta alta la curva dei contagi oltre il 10 per cento. Sono 1994 i nuovi positivi registrati nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi. In calo i ricoveri con 131 posti di terapia intensiva occupati mentre nel report quotidiano si contano altri 31 decessi.